Ciao a tutti belli e brutti, ciao a tutti da Michelone il Grande. Un bacione a tutti, un bacione a tutti gli iscritti. Vi ringrazio, vi ringrazio a tutti gli iscritti perché uno al giorno, come dico io, toglie il medico di torno e vedo che uno, due al giorno, uno, due al giorno il canale cresce, comincia ad avere un senso questo canale. Vedo anche sotto i commenti e sono contento, sono contento perché così scambiamo quattro parole e sono contento anche perché vi tengo compagnia quella mezz'oretta al giorno e a me piace parlare con gente intelligente perché io ho detto sempre che voglio nel mio canale gente per bene, non voglio testa di cazzo, non voglio testa di cazzo, gente per bene e intelligente, non stupidini, quindi se sei stupidino neanche non iscrivetevi, se sei una buona persona invece iscrivetevi al mio canale. perché iscriviti al mio canale, guardami, 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 iscriviti. L'hai fatto? Perfetto. Allora, 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 allora. Una settimana fa circa, quando c'è stata la partita della Roma, che tutti facevano i video, povera Roma, povera Roma, tutti sti lecchini di merda, no? Tutti sti lecchini di merda, perché a me, io vi ripeto sempre che le peggiori, ricordatevi bene che le peggiori persone sono i lecchini e i taccagni. Però i taccagni, lasciamoli parlare perché non c'entrano niente con questo video, parlo sempre dei lecchini, perché qui non mi rivolgo alla tifoseria, alle varie tifoserie che tifavano Roma, che facevano finta di tifare Roma, perché lì era tutto per accapararsi gli iscritti, per leccare il culo, le altre tifoserie per i soliti click, ma lo sappiamo già come funziona. Qui invece parlo di giornalai, perché per me quelli lì non sono giornalisti. I veri giornalisti erano una volta, adesso sono tutti giornalai lecca a culo, anche quelli là. Se tu apri un canale YouTube, se tu apri un canale YouTube, tu, giornalaio, non sei libero di dire quel cazzo che vuoi. Soprattutto anche perché tu sei pagato, perché tu sei pagato. Lo sappiamo benissimo che quelli sono pagati dalle società, anche quando vanno nelle conferenze stampa, che c'è l'allenatore che parla e gli fanno quelle domande di merda, non possono fare certe domande, perché la società li blocca, è tutto programmato. È tutto programmato. Gli dicono quello che devono chiedere, gli dicono come comportarsi, è tutto già programmato nelle conferenze stampa, ragazzi. Per chi non lo sa. Ma tu, quando apri un canale YouTube, io parlo magari di balzarini, ma di tanti, ne potrei fare una lista lunga, perché adesso hanno tutti preso la mania di aprirsi il canale YouTube. YouTube è una piattaforma nella quale noi siamo noi stessi, siamo padroni di dire quel cazzo che vogliamo. Se tu apri un canale, ripeto, YouTube, e non puoi dire certe cose perché sei frenato, perché sei pagato, è come se io sono un banchiere, un banchiere, apro un canale YouTube per parlare delle banche. Non potrò mai parlare male delle banche. Cercate di capire quello che voglio dirvi. questi qua, è la stessa cosa. Loro, apro il canale YouTube, non possono parlare male della Juventus, non possono esprimere veramente quello che pensano. Cercano sempre di girarci intorno, di dare la leccata di culo, soprattutto perché sono sempre pagati dalla società. Perché vi dico questo? Perché adesso è venuta fuori questa storia, ho visto Balzarini, ho visto certi video, ho visto Andati per Vincere, poi le Gesson Fea anche lì, perché sono quelli che seguono. Le Gesson Fea no. Però, come dico tante volte, quando apri il computer o il telefonino, l'algoritmo propone, allora vedi il titolo sotto, e ci cadi, perché ci cadi, no? Una volta lo seguivo, le Gesson Fea adesso no, perché non mi va tanto quella persona là, non mi va. Andati per Vincere è un'altra cosa, ho visto uno sfogo oggi, ma uno sfogo contro Balzarini. Ed ha ragione, ed ha ragione, anche se sono, come dire, YouTuber che non mi vanno, perché non mi vanno tanto questi personaggi, ma hanno ragione, hanno ragione ragazzi. se tu ti metti sul tubo, tu devi essere libero di dire quel cazzo che vuoi. Oddio, certo, dentro certi parametri, si comincia a bestemmiare, a dire certe cose, allora lì è un altro... non va bene, però tu parli di una certa cosa, qui adesso parliamo di Juventus, devi essere libero di esprimere il tuo pensiero. Di cosa parliamo? Perché sono dei lecchini, sono dei lecchini, sono dei lecchini delle società, i Zuliani, i Balzarini, gli Agresti, io amo, per dire, i giornalisti tipo, non so se avete mai visto il canale Una signora per due, ci sono quei due, quei due personaggi, Maletto, e l'altro che somiglia a Woody Allen, no? Loro, porca miseria, sono, loro vanno contro la società, spadattrata, loro sono giornalisti di QSVS, lì, qui studio a voi stadio, e a loro non gliene frega niente, ovviamente non bestemmiando o non tirando quattro porchi, come facciamo noi intanto, però porca miseria, dicono la verità, non sono quei classici lecchini del cacchio, che vediamo noi, io quelli là, ragazzi, all'inizio mi ero anche iscritto io a quelli canali, perché anche, sa diciamo, perché loro hanno anche quella parlantina flebile che cadi, che cadi, sul loro contorno, poi nel tempo ti accorgi che questi sono dei leccaculi, delle leccaculi, e allora dici no, basta, a me quei personaggi non piacciono, e ciò, ma oggi c'è la questione della leccaculagine, della leccaculagine, e a me ragazzi, vi ripeto, che le peggio persone, lasciate perdere quelli che uccidono la gente, quelli lì, sono un altro pianeta, ma parlo delle persone normali che incontriamo noi per strada, che lavoriamo insieme, le peggiori persone, ricordatevi quello che vi dice Michelone, sono i lecchini e i taccani, guardate ragazzi, che ho anche io, nella mia vita, soprattutto sul lavoro, sempre sul lavoro, ho fatto delle guerre estenuanti contro i lecchini, capisco io parlare, sai, magari con il padrone, fare quattro battute, ma leccare il culo in quella maniera viscida come fanno questi qua giornalai che sono sul tubo, mi fa da vomitare, di vomitare, hanno ragione, è Nati per vincere, le Zesonfè, e tutti quelli che li sputannano, perché hanno ragione, è alla fine del discorso che dicono bisogna stare lo stesso vicino nella Juventus, no, no, perché se tu stai in questo momento vicino, ascoltate bene quello che vi dico, se tu adesso stai vicino alla Juventus e fai finta che non succeda niente, quelli continuano a fare quel cazzo che vogliono, bisogna dare un segnale, ragazzi, credetemi, bisogna dare un segnale, bisogna, quando ero io in fabbrica che lavoravo, per dare un segnale si scioperava, si scioperava, ci rimettevi tu di tasca tua, ma scioperavi per avere quello che volevi, qui bisogna scioperare e non andare più allo stadio, prima cosa non andare più allo stadio, io non ci vado mai perché, a parte che sto troppo lontano, ma per andare a vedere quella merda là, ma mai, mai, andrei a spendere cento, duecento, trecento, ma sei matto, ma sei matto, ma vi ripeto, ma vado a puttane piuttosto, vado a puttane, vado a farmi una gita, vado a mangiarmi una pizza, andare a vedere quella merda lì, seconda cosa, non spendete soldi per Dazon e Sky, quelle cose lì, io non l'ho mai fatto in vita mia perché mai spenderò per le tv a pagamento, perché è un furto, per me, è un furto, e terzo, quello che facevo sempre io, quello che facevo perché ora non lo faccio più, non spenderò più un euro per la Juventus, gadget, magliette, tutte, maglioni, basta, finito, fino a quando questi non capiscono di mettere la testa a posto, devono finirla di rompere i coglioni, devono sistemare questa Juventus una volta per tutte e devono mandare via quello schifoso che c'è in panchina. Ragazzi, sono tutti su questa lina qui, sono tutti ormai su questa lina qua, e non penso che tutti siano coglioni, che non capiscono un cazzo, non penso che tutti siano coglioni, quindi fino a quando questa società, questa dirigenza, non torna a mettersi in riga e manda via questo schifoso dalla panchina, ovviamente dopo di lui ci sono anche quei 5, 6, 7, 8 giocatori, anche quelli lì devono sparire, devono andare fuori dal cazzo, fin quando non faranno così, non bisogna più andare allo stadio, non bisogna fare più abbonamenti e non bisogna comprare più niente dallo store della Juventus, bisogna fare questi sacrifici qua, ragazzi, se vuoi ottenere qualcosa bisogna fare sacrifici, se no non ne vieni più fuori, hanno ragione questi del tubo a dire che quelli sono dei lecchini, perché quelli sono pagati, sono pagati dalla Juventus per dire quelle robe là, se non l'avete capito ancora, cercate di farvelo entrare nella zucca, questo volevo dire, vi do un po' lunghetto, però è giusto così, un bacione a tutti i belli e brutti, vi ringrazio sempre lo stesso, sempre a tutti quanti gli iscritti al canale e ovviamente iscrivetevi, un bacione da Michelone, alla prossima, ciao raga.